Quando armiamo il rig, dobbiamo posizionare il boma alla giusta altezza. L'altezza del boma deve essere compresa tra lo sterno e il mento. Quando armiamo il rig a terra, dobbiamo considerare che il piede d'albero sulla tavola aggiungerà circa quei 8 cm in più all'altezza del rig. Un boma troppo basso ci farà sforzare troppo con la schiena e la vela risulterà quasi impossibile da maneggiare. Se invece alziamo troppo il boma, la vela aumenterà di potenza e sarà meno maneggevole. Un modo per constatare se il boma è circa la giusta altezza consiste nell'abbracciare con un braccio il boma mentre con la mano opposta cerchiamo di toccare la base della prolunga. Se arriviamo corti o troppo lunghi, significa che il boma è troppo alto o troppo basso.